L'amico Nemesi chiede di venire aiutato, questo è il terzo video che dedico all'amico Nemesi, perché il proverbio dice che non c'è due senza tre, siccome ne ho già fatti due, questo è il terzo video che gli dedico, dopo però mi dovrò fermare, perché se no magari mi becco io una denuncia, mi becco io una denuncia, beh cari amici, sapete è vero che l'amico Nemesi e sembra che abbia dei grossi, 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 grossi problemi con gli psichiatri, io personalmente, personalmente mi dispiace dirlo, come autore di questa opera, vedete questa opera dal matriarcato al patriarcato, peccato che io non possa farvi vedere ancora la nuova copertina in lingua inglese, perché è già questo ebook interattivo e multimediale, è già in tutto il mondo, è sulle grandi piattaforme di iTunes, della Apple, beh come autore di questa opera, io devo dire francamente che non ho una grandissima simpatia per il mondo della psichiatria, no, 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 perché ritengo che sia il patriarcato, il patriarcato la causa del male e quindi bisognerebbe curare il patriarcato, capito? Cioè l'entità che va curata non è il singolo abitante del patriarcato, ma è lo stesso patriarcato, il patriarcato che va curato, siccome noi non possiamo curare il patriarcato, non ce la sentiamo, allora curiamo coloro che devono abitare dentro il patriarcato, questa è la storia dell'amico Nemesi, e Nemesi, Nemesi, e Nemesi adesso sta passando un brutto periodo, io nel riassunto vi metterò quello che mi ha ultimamente scritto Nemesi e voi cari amici, provate a leggere quello che vi metto nel riassunto, ci sono anche dei link e poi vedete anche voi quello che potete fare per l'amico Nemesi, capito cari? Mi raccomando cari amici, l'amico Nemesi chiede a tutti noi di dargli una mano, io la mano gliela do in questa maniera, ed è una maniera alla mia anche simpatica, perché in questo modo io do voce all'amico Nemesi, gli do la voce su una piattaforma che diffonde adeguatamente determinati messaggi e voi cercate di dare una mano all'amico Nemesi come potete cari amici, d'accordo? Va bene cari, grazie, tanti cari auguri all'amico Nemesi, tanti cari saluti a voi e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.